Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola, laggiù. Forza. Ne sono un bel po' la sua. Non farei rumore. 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 non fare 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 rumore. Per il corridoio, potremmo passare da quelle aule. Joel, quella è la parte sbagliata, di qua! Cavolo! Il passaggio, dobbiamo oltrepassare quei tizi. La sostanza! Whaaaaah! Ahhhh Tagga magna! Ahhhhhhh Quasi disegni Quasi disegni Quasi disegnati Quasi disegni Quasi disegni Forse possiamo passare dal corridoio. 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 Forse può passare dal corridoio. Forse potrà phare. Forse può passare dal corridoio. Pergunto di passare. Entrate in casa, subito! Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre dia tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo a testa. E può ficcarselo dritto. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E chi cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui... Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. Deal. La batteria è scarica, ma... Le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B. Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Gesù! Altra roba mia! E allora? Che fai? Rubire le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farei un urlo. Pensate ancora. Abbiamo ancora? Democratico. Modervi é la Parece Renaissance. Aっぱ pure il enorme stadion? Allora. Grazie. Pronto? Va bene, Bill. Ok. Mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... Oh, come si lascia la frizione. Come diavolo... Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta? Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ehi! Fai il lavoro, ragazzina! Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare! Resta concentrata! Dall'altra parte, a sinistra! Oh, merda. Siamo a posto. Torniamo al camion. Dobbiamo andare più veloci. Continua a spingere. Continua a spingere. Sente, è dietro la casa. Alla vostra destra. Ah, e abbiamo poco tempo. Torniamo a spingere. doing le stagione. Gioid. Ok, Ellie, stai pronta? Ok, Ellie, metti in moto! Sentito che roba, Bill? Beh, significa che hanno sentito anche il pezzo. Siamo sul campo. Vai, vai! Accelera! Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill. Riguardo al tuo amico. È difficile. E io... Beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Grazie. Ciao. 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 Ciao.